Allora, praticamente sono un macello. Allora, per molti di voi non ho fatto gli auguri, sia oggi che i giorni precedenti. E vabbè, mi scuso, ma sono un po' così. Comunque, anche se in ritardo, anche se non l'ho fatto a tutti, vi continuo a augurare buone feste, dal profondo del mio cuore. Vi voglio bene e volevo fare tutta una sorte con i miei video più riusciti, quelli meno riusciti, ma alla fine durava troppo e ho dovuto, ho dovuto mollare. E niente, vi auguro ancora buone feste e vi voglio lasciare con questa canzone.